Per noi il Fashion Weekend è l'inizio dell'inverno più importante, l'inverno che porta ai mondiali di febbraio e quindi abbiamo voluto anche quest'anno essere vicino a Cortina Forase, all'amministrazione comunale, abbiamo voluto vestire Cortina con i colori del mondiale proprio per ricordare a tutti che questo è l'inverno del mondiale, per ricordare a tutti questo importante appuntamento al quale tutti quanti ci stiamo preparando anche con molti sacrifici, con la consapevolezza di questo momento difficile, ma verso il quale andiamo con ottimismo e con senso di responsabilità.